Palazzo dei Celestini rientra in possesso del Circolo Cittadino e annuncia sarà un nuovo contenitore socio-culturale. A decidere che le pretese avanzate dalla provincia di Lecce fossero legittime è stato il Tribunale amministrativo che si è espresso sul ricorso presentato dall'Associazione del Circolo Cittadino, presieduta da Gino Starace, che si è opposto allo sfratto per morosità firmato dal presidente Antonio Gabellone lo scorso 9 febbraio. Il Tar ha dato ragione alla tesi formulata dall'avvocato Francesco Baldassarre secondo cui quel rapporto è da considerare nullo, poiché l'immobile è benedemaniale e quindi non soggetto a possibilità di fitto, ma solo di concessione gratuita. Dopo 60 anni, quindi l'immobile ubicato nel cuore del centro storico e a due passi da Piazza Santo Ronzo, alle spalle di Palazzo Carafa, torna fra gli immobili che la provincia potrà utilizzare liberamente. Da un anno, lo sfratto del Circolo Cittadino era divenuto il chiodo fisso di Renato Stabile, sua iniziativa una commissione provinciale ad hoc e diversi sopralluoghi successivi. Una battaglia vinta, quindi, ora l'immobile torna a Palazzo dei Celestini che inizia a programmare il futuro di questo pregiato contenitore.